ciao a tutti ragazzi oggi volevo presentarvi delle piccole novità in casa poseidon e niente non perdiamo tempo e ve le faccio vedere oggi vedremo nello specifico le nuove bobbins in casa poseidon che per me sono fenomenali sono molto semplici da utilizzare veloci da montare e soprattutto sono molto resistenti e semplici nell'utilizzo sono favolose eccole qua ragazzi sono fantastiche veloci e come vi ho detto hanno il loro pesetto intercambiabile questo che stiamo vedendo è il peso maggiore abbiamo diversi tipi di colore per le bobbins io adesso disponibili ce l'ho verdi viola neri e bianchi siamo abituati a chiamarle scimmiette, key swinger perché ci sono diversi modelli queste le chiamiamo bobbins e queste bobbins insomma come sono fatte? qual è il loro sistema di funzionamento? il loro sistema di funzionamento è molto semplice vedete questa catenella? questa catenella serve per sganciare il nostro filo praticamente quando ci sarà una tensione abbastanza forte andremo a liberare il filo così in questo modo quindi quando noi andremo a tirare sulla canna per combattere il pesce tireremo il filo e apriremo la nostra bobbin e quando vi arriverà a casa vi arriveranno a casa così in questa piccola confezione e poi potete scegliere se acquistarle tutte di un colore oppure differenziare diversi colori con i suoi pesetti cambiando i colori alternando i colori come faccio io perché mi piace variare un po' i colori insomma vi arriveranno a casa così con dentro anche la brucoletta e io le trovo fantastiche le utilizzate sia con l'onda sia con il vento sia con il ghiaccio in tutte le condizioni atmosferiche e sono state sempre favolose ecco un'altra novità andiamo a vedere come funziona e come si monta si svita il braccetto eccolo qua lo vedete questo? lo dovete far passare qua dentro molto semplice una volta passato si rimette il braccetto ora noi lo possiamo andare ad installare sul nostro picchetto o nostro rotpod praticamente questo serve solamente per non so se lo vedete per irrigidire il tutto ok? e possiamo dare noi il livello perché lui scorre per tutta la sua estensione una volta trovata la nostra regolazione ottimale andiamo ad agire sulla vite che è dietro lo blocchiamo e lui è pronto a funzionare io ragazzi vi saluto e vi do appuntamento al Carpidali insieme a tutto il nostro team e se avete qualche domanda non esitate a contattarci sulla nostra pagina ufficiale e cos'altro? ah abbiamo pensato di farvi un piccolo regalo e farvi partecipare a un piccolo contest per cercare di aggiudicarvi un set delle nostre bobbins seguite le istruzioni e cercate di aggiudicarvelo ve lo consegneremo al Carpidali oppure ve lo manderemo direttamente a casa vostra ciao ragazzi ciao